Mentre cercavamo di capire come le persone si sentono a lavoro, abbiamo scoperto che grosso modo esistono tre tipi di lavoratori. Li chiamiamo lavoratori impegnati, lavoratori non impegnati e lavoratori attivamente disimpegnati. In breve, i lavoratori impegnati sono quelli il cui lavoro li fa sentire bene, vogliono fare bene, sono emotivamente connessi e interessati. E in tutto il mondo abbiamo, per esempio, un 15% impegnato. Abbiamo quelli non impegnati, non sono emotivamente connessi, fanno il proprio lavoro. E poi abbiamo il gruppo attivamente disimpegnato e lo sono perché c'è una frustrazione, sono arrabbiati, ritengono che a nessuno freghi nulla di loro. I lavoratori attivamente disimpegnati compromettono gli sforzi dei lavoratori impegnati e diffondono le loro sofferenze nel resto del gruppo. È così che fanno. Nel mondo, l'85% delle persone o non è inserito o è attivamente disimpegnato. Il che significa che abbiamo più di 850 milioni di lavoratori che ogni giorno non sono certi di cosa ci si aspetta da loro, non pensano che al loro capo freghi nulla di loro, non pensano che le loro opinioni continuano, non pensano che ciò che fanno sia importante. Se riuscissimo a cambiare il rapporto delle persone con il lavoro, risolveremmo molti dei problemi nel mondo.